C'era una volta un cavaliere che fu sconfitto da un drago. Adesso ti mangio. Il drago l'ho rinchiuso in una torre sorvegliata da un lupo. Allora la principessa corse in suo aiuto. Non temere. Ti salverò. Ma quando arrivò... Il cavaliere stava già dormendo. Ogni magia è possibile sulla giga network Vodafone con iPhone XR e Red Unlimited. Il futuro è straordinario. Ready? Grazie.